3, 2, 1. Nothing else matters. E ci siamo trovati un'altra intro per il video. Non è possibile. Dovevo fare poi il meglio del peggio. Siamo degli sfornatori di intro. Sfornatori di B. 3, 2, 1. Vai. Oppure ascolti la versione di un cercio. Un cercio. Winston Churchill. Pubblicità. Ma andiamo a fra poco. 3, 2, 1. Eccoci qui. Con il maestro Moretto e Metticelli. Siamo pronti a fare recensioni e a cantare. Godi forte Mirko. Godi forte Alex. Ragazzi, ragazzi, siamo tornati separati, ma non per molto. Oggi, oggi di che si parla? Oggi si parla di? Oggi parliamo dei nostri amati Queen. E in particolar modo del Freddy Mercury Tribute. 20 aprile 1992. Quindi, fra pochi giorni, cade l'anniversario. Maestro Moretto, ha lei la guida di questo Freddy Mercury Tribute? Devo dirti che io mi ero abituato bene ormai a venire da te a fare quella recensione, la MOOC. Ormai mi ero preso bene, e vabbè, siamo dovuti tornare lontani ma vicini. Dunque, oggi parliamo del Freddy Mercury Tribute, questo enorme concerto che i tre rimanenti Queen hanno organizzato dopo la scomparsa di Freddy Mercury, il 24 novembre del 91. Ed è stato il concerto più importante degli anni 90, senza dubbio, sia per la caratura degli artisti, sia per l'audience. Perché, oltre ad un Webley Stadium strapieno, più di 70.000 persone che hanno polverizzato i biglietti al momento della vendita. Sì, tre o quattro ore, per più, credo, 72-73.000 biglietti. E oltre un miliardo di spettatori in tutto il mondo. Erano appunto le 18 del 20 aprile, quando un'ovazione o un boato ha accolto Brian May, Roger Taylor e John Deacon, che sono saliti sul palco per presentare la manifestazione. Il pubblico sapeva già che da quel momento non sarebbe stata più la stessa cosa, la figura proprio dei Queen. E poi, tra l'altro, sapevano che sarebbe stata l'ultima volta che i tre membri rimasti avrebbero suonato insieme tutto un concerto. Perché hanno preso parola prima Brian May, poi Roger Taylor e per ultimo John Deacon. E quest'ultimo, il pubblico ha capito che sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbero visto dal vivo. Ed è stata anche l'unica volta nella storia dei Queen che John Deacon, in un concerto, si è espresso pubblicamente ai fan. È stato molto riservato, cioè una bestia da palco ma silenziosa. Io l'ho sempre definita, è un grande artista, sulle sue, infatti poi si è visto cosa poi ha deciso di fare, ma se no ve lo andate a rivedere nelle altre recensioni perché ne abbiamo largamente e ampiamente parlato e anche abbiamo lanciato un appello alla BBC di lasciarlo in pace, perché una volta all'anno potrà andarsi a comprare il pane, come ha detto il maestro Moretto. Detto ciò, il pubblico aveva capito che dalle parole di John Deacon sarebbe stata l'ultima volta che le avrebbero sia sentito parlare sul palco, che anche visto in un certo tipo di forma artistica. E sono rimaste iconiche queste parole perché, a parte che c'è stata un'ovazione per lui quando ha preso la parola, però ha detto, grazie a tutti per essere qui, ma come prima cosa, the show must go on, and now, Metallica! Proprio così, con tre classici della loro discografia, Enter Sad Men, Sad But True e Nothing Else Matter. Dopodiché ci sono stati gli Extreme, Death Leopard, Guns N' Roses, veramente una carovana di grandi artisti che hanno segnato il rock britannico e non solo, che hanno reinterpretato a loro modo le canzoni di Queen, sostituendo appunto il frontman Freddie Mercury, non copiando, ovviamente, ed è anche per questo che per molti versi è stato apprezzato il concerto. Oppure senti, ascolti la versione di un certo George Michael di Somebody To Love e ti vengono comunque i brividi, le emozioni. Sì, esattamente, perché è stata la performance più apprezzata dell'evento. Gli stessi Queen si sono sorpresi quando Michael, già dalle prove, interpretava così sontuosamente, a suo modo, Somebody To Love, ed è stato uno dei pochi che non ha dovuto cambiare la tonalità, perché le tonalità in cui cantava Freddie Mercury non le raccomando a nessuno. E sono un po' altine, eh? Giusto le donne che hanno partecipato al Freddie Mercury Tribal sono riuscite a cantarle in tonalità perfetta. Lisa Stansfield, per esempio, che ha cantato I Want To Break Free, oppure ha cantato These Are The Days Of Our Life con George Michael, Liza Minelli che ha cantato We Are The Champions. Per farvi capire, giusto due nomi che hanno partecipato. Liza Minelli. Abbiamo avuto anche un italiano, l'unico italiano che ha partecipato al Freddie Mercury Tribal, invitato personalmente da Brian May, ovvero Zucchero. Esatto, che lo potete vedere sopra la testa del maestro Moretto. Ha cantato insieme ai Queen Las Palabras de Amor. Cosa particolare, lui avrebbe dovuto cantare e suonare la chitarra ritmica in quella canzone, però nel momento in cui è stato annunciato da Brian May a salire sul palco, nessun addetto di palco gli ha consegnato la chitarra, quindi lui è andato e ha cantato e basta, senza chitarra. Vedete una piccola cucchetta, un piccolo spoilerino, ma se tutto va bene, qui sotto, trovate anche il DVD dell'evento da potervi acquistare, perché signori, alcune cose va bene vederle in streaming, va bene vederle su qualsiasi portale, ma avere una copia fisica di tale pezzo da museo, secondo me, potrebbe valere, potrebbe valere molto anche. Sono state svariate le collaborazioni, molto belle sono state le interpretazioni di ovviamente David Bowie, che ha cantato Under Pressure insieme a Annie Lennox, e che alla fine del suo set, diciamo, si è volontariamente inginocchiato e ha recitato una preghiera per Freddie Mercury. Molto bella e interessante è stata la performance di Robert Plant, colosso della musica britannica, cantante dei Led Zeppelin, che ha interpretato Innuendo e Crazy Little Think I Love. Ha voluto togliere poi nel post-produzione Innuendo, perché a suo avviso non è stato all'altezza. Ve lo consiglio perché è un concerto, sì con la musica dei Queen, che tutti conosciamo, ma diverso dal solito. Ti posso lasciare con le parole molto rock'n'roll, se vogliamo, di James Hatfield, cantante dei Metallica. Ha detto, ho la possibilità di esibirmi con la mia band e suonare le canzoni dei Queen, o comunque esibirmi insieme ai Queen in questa fantastica serata. Non me lo dovete ripetere due volte, ci sarò. Grande Maestro Moretto, anche questa settimana hai segnato una tripletta con questa recensione. Ci vediamo la prossima, la prossima settimana. Grazie Maestro Moretto, godi forte! Grazie a te Alex, godi forte! E fate i bravi, e qua sotto ci sono tutti i link per il Maestro Moretto. Andatevi a vedere l'ultimo video, anche del suo canale YouTube, una bellissima cover dei Green Day. E poi, che dire? La musica non si ferma. No, no. Dov'è il mio beef panino? Ciao amici, alla prossima! Ciao! Ciao!